Facciamo ora l'unboxing del IS212J Sinovri Vediamo cosa contiene, se riesco a aprirlo Allora vediamo qua, qui c'è il cavo elettrico Catorezza con tutti gli accessori CD installazione per trovare la prima volta il nastro in rete Scavo di rete Viti per attaccare i dischi Alimentatore Cosa c'è? E qui c'è il nostro Un mio spasco Un mio spasco Plan Disco 1 Disco 2 Tasso di accensione Qui non ci sono urb frontali Due urb dietro Scara di rete Alimentazione Vediamo dentro Ancoraggio per tutti e due i rischi Si montano uno sotto Così E uno sotto Così E si mettono le viti Di enter e acce Vedete come è fatto dentro Questa è la scatola Ed è tutto Questa è la scatola